ciao a tutti ragazzi benvenuti un nuovo video qui sul mio canale oggi vi presento questa la nuova canon m50 il diamante di casa canon perché è un diamante ve lo spiego in questo breve video dentro il pacco ho trovato appunto la telecamera l'obiettivo il caricabatterie è una batteria che vi consiglio se siete interessati all'acquisto di questa telecamera è quello di appunto comprare più batterie magari averne minimo 23 perché appunto l'utilizzo che fa la telecamera è davvero perché 300 scatti considerando che una persona potrebbe partire la mattina ritornare la sera facendo video foto e quant'altro non è che siano tantissime quindi a posto di portarvi il caricabatterie stare in qualche ristorante a caricare la fotocamera vi converrebbe avere almeno tre batterie ma ora voglio parlarvi della sua più grande particolarità ed è questa ve la faccio subito vedere eccolo qua il suo intanto lo schermo display quindi è incredibile ecco la sua particolarità il display clippabile potete benissimo muovere spostarlo come volete ed è una cosa super e incredibilmente utile per chi fa video per chi fa blog per chi vuole scattarsi magari un selfie insieme agli amici quindi con tre piedi riesce a vedere a mettere a fuoco il tutto proprio della messa a fuoco voglio parlarvi perché di questa telecamera di questa fotocamera m50 è davvero incredibile ha una messa a fuoco che è super veloce incredibile ieri ho provato qua con un paio di amici a girare la telecamera molto velocemente e vi posso assicurare che la fotocamera andava che era una scheggia quindi incredibile il lavoro che hanno fatto in casa Canon per questo appunto autofocus ci sono delle modalità già preinstallate nella fotocamera che sono davvero utili come lo scatto magari in atmosfera più aperta o se no lo scatto vabbè oltre quello automatico troviamo quello la per i ritratti per tutti gli effetti particolari quindi bianco e nero seppia a cartone animato insomma tantissimi tantissimi effetti e tantissime modalità disposizione questa qua una fotocamera che riesce a registrare video anche in 4k quindi davvero ottima se avete intenzione di magari fare qualche ripresa abbastanza figa abbastanza definita questa qua è davvero utilissima inoltre vi consiglio se siete interessati all'acquisto di questa telecamera di dotarvi anche di un treppiedi che ancora mi deve arrivare io ho comprato quello della giovi da un chilo perché appunto la camera penso che pesi intorno ai 400 grammi insieme all'obiettivo ed è utilissimo appunto per metterla in qualsiasi posizione ora passiamo a farvi vedere come registra questo diamante facciamo una sorta di test che ne dite ok questo qua ora è la canon m50 l'audio esce appunto dalla fotocamera quindi non sto utilizzando nessun microfono particolare e questa qua appunto è la sua qualità fantastica sto registrando in 1080p 30 frame al secondo e vi faccio vedere un po' come si comporta qui in mezzo alla luce è tutto ora vi faccio vedere un po' di riprese con questa telecamera che qualità davvero incredibile tutte le riprese sono state fatte con la canon m50 in maniera molto random senza edit quindi macchina in mano un po' di riprese ambientali e vi posso assicurare che per le sue dimensioni è davvero un diamante secondo me di casa canon inoltre stavo pensando a quanto utile sia il display flippabile riesco a vedere tutte le informazioni a riguardo la durata la registrazione la messa a fuoco e vi posso assicurare che per questo genere di video è fondamentale una cosa simile vi invito a iscrivervi al mio canale instagram dove porterò tantissime fotografie con questo gioiello canon e inoltre contenuti esclusivi solamente per instagram lascia un like se il video ti è piaciuto lascia anche un commento se magari sei già possessore di questa canon m50 se ti è piaciuto se non ti è piaciuta e se sei interessato a acquistarla e se hai dei dubbi magari da chiedermi ti risponderò prontivamente prontamente prontamente alla tua domanda questo sono io questo è il mio canale ragazzi pronti perché tra poco si partirà con tantissimi contenuti riguardante al mondo di noi maschi men's life e quindi restate sintonizzate ciao sono messo a fuoco si vedi con lo schermo si riescono anche a fare queste cose incredibile